bella a tutti ragazzi qui è marsi e che bentornati nel canale oggi signori siamo tornati qui con un nuovo video di road to stunt che sinceramente non ricordo il numero è una cosa assurda perché da tantissimo tempo anche fin troppo tempo che non porto questa serie sul canale e oggi andremo a fare un po distante così a cazzo di cani in giro per la città e il problema è trovare uno spot uno spot e decente che non ho trovato finora mentre non stavo registrando detto bollino trovare uno spot e poi si inizia invece no non c'è un cazzo non c'è quindi non so davvero come faremo tanto qui fuori il pezzente che ha iniziato con la ruspa porca troia o mai puntuale no 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 e chi cazzo l'ha vista l'acqua mo managgia la madonna mo iniziamo eh sali 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 commentate il video con scritto un posto uno spot dove provare a far qualcosa perché sennò io non ho idea dove cazzo andare ci sono tutte casettine minuscole qui ma che quartiere di merda questo ah aspettate vedo qualcosa vediamo se riesco prima di qua e io convolgo tutti poi convolgo tutti troppo in avanti pezzo di merda guarda togliti no ci potevamo mettere in a slide porca troia è anche cosa che un'ottima idea oltre che andare sopra ci possiamo sporgere verso destra poi e attaccarci alla ringhiera in qualche assurdo modo tipo a slide o a handlebar il problema che ora neanche sale cioè non si muove di un millimetro vacca lurida togliti no di poco dai ti devi togliere figa oh ma sti cazzo di civili inutili come la merda su gta ah però stavamo salendo però io mi voglio andare a destra voglio andare mi voglio buttare a destra sulla ringhiera se vediamo magari c'è tacchia col manubrio che non prende abbastanza danno non prende tantissimo danno rispetto alla slide figlio di puttana madonna quando non sale ho già tutte le sgommate per terra si faccia una strada che è nera muore verso al vine e bicchia tutti non passare manco per non passa non possore figlio di puttana guarda quando non sale mi viene voglia di distaccargli la testa dai ha preso l'accappata proprio in pieno si è spaccata la faccia questo qui che vuole a cade dal cielo cade come dio cade vabbè però cristo dio ti devi inclinare che poi quando inizi a prendere bene lo slancio ti dice ma che cazzo perché il civile guarda vai via no ci potevano attaccare anche questa porca troia veniva a dire guardate qui cazzo spaccata la faccia e sangue per terra che sembra che va giusto però poi ti accorgi che no cc porca troia i civili i civili oh non servono un cazzo i civili madonna no troppi avanti via civile di merda madonna eh vedi pure lui sta dicendo questi civili del cazzo madonna oh ne hanno messi i rompi i coglioni e non so avranno fatto un aggiornamento e ne hanno messi i rompi i coglioni guarda 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 morto cristo dio quei civili che passano e rompono i coglioni è troppo indietro cioè in avanti per la prima e indietro per la seconda proprio in mezzo ma calurita ma che cosa cazzo ok mi dicevano realistico gta è rimbalzato no 10 minuti dai figa ma porca troia non si riesce a pendere assurdo ma andi a fanculo no non posso andare a fanculo io ancora ci ma levati te cazzo ma che cazzo si riproducono giorno dopo giorno non voglio andare in cima cosa cazzo fai cosa mandi a fanculo oh oh a metà perché ci ha messo tre ore per scendere perché di solito ci viene giù a piombo quando qualcuno tira giudio dal cielo che viene giù a piombo proprio di corsa ci abbiamo fatto cioè ci siamo appesi abbiamo fatto l'underbar a metà perché come ripeto mezz'ora in aria è stato a momenti arrivava sul lampione poi vedete ma cosa cazzo perché mi incula i bug di questo gioco madonna che ancora non hanno aggiustato sto cazzo di bug che rimane per l'aria con la bici no ci siamo andati a incastrare però noi usciremo la macchina guarda lì guarda lì ma manco a napoli fanno così con le auto chi lo sappia a napoli c'è tipo chi passa per primo vince poi la maggior parte delle volte ci sono incidenti oh ma perché ma cosa fa cosa fa questo qui salta così a cazzo di cane salta da solo salta porca troia o quando sto gioco non è sincronizzato col joyce che fa il cazzo che gli pare normale non cosa cazzo succede aspettate qui è una roba da suicidarsi però lo voglio provare un attimo voglio prendere questo gradino come rampa e poi mettermi in ma cosa no come mettermi in cog con la ruota anteriore mamma lonna arriva la bici cade peggio dei giocatori di calcio che gli soffi e cadono porca troia no 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 tu non muo' si potrebbe fare una cosa come avevo fatto nello scorso rotto stanto dove appunto ma cosa accade ma questo qui è tutto strano questo qui ho bevuto prima di venire qui ma guardate come cazzo cade ogni volta a parte il volo che prima ha rimbalzato per terra no mi volevo girare contraria a pendermi voi non potete capire che cosa assurda poteva mai uscire adesso tocca di non farcela a piotti e andare a prendere la bici come potete vedere qui ci vuole più tempo perché mi ha rubato la bici ma porca troia ok a me non me l'ha riportata madonna i camion guarda mi arrivano in faccia è rimasto senza bici te ancora questa modalità competizione ma non mi hai fatto un cazzo che l'avete aggiornato dai oh è fattibile perché è fattibile però adesso devo sprecare 50 minuti e la mia vita andrà a prendere questo coso e la bici e sali porca troia oh ma voglio riuscire a farlo il 2 in 1 porca puttana che cascasse dio meno poi c'è Iden che lo va a prendere a pugni è la sua occasione vai 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 porca puttana mamma mia farsi tutto il ponte in quel modo poi sarebbe una cosa davvero bella proviamo ancora un paio di tentativi giusto 2 minuti e togliti da la minchia oh subito che voglio passare no troppo esterno oh i civili quanto li odio dai figa di nuovo ci l'avevano fatta porca puttana niente magari ci ritorneremo qui vediamo un attimo il posto dov'è dove ci sono le due cose qui dove c'è lo santo custom dove c'è sto ponte qua spero di teneremo la mente e niente che dire questo video finisce qui dopo mezz'ora di registrazione qualcosa l'abbiamo combinato e nel secondo tentativo cioè nel secondo stante appunto dell'episodio ci siamo andati molto vicini a parte la testa di cazzi che si staccava dalla ringhiera e cadeva e niente questo video è tutto io spero che il video vi sia piaciuto consigliatemi altri spot anche se nel prossimo episodio credo di tornare di nuovo qui vi invito a lasciare un like un commento per appunto indicatemi un altro spot da fare condividete il video su tutti i social sui gruppi facebook quelli di gta dove volete condivideteli anche perchè è carina come serie sono l'unico coglione che perde tempo qui a fare stante per poi fare suicidare 50 volte il personaggio e crearli così una vita triste vi invito a lasciare un like e passare i social in iscrizione e noi ci vediamo un prossimo video aspettate un attimo niente vaffanculo bella ciao Grazie per la visione!